Easy go Come latte e biscotti Ehi ragazzi, avete le ricette per quella roba? Oggi è impossibile contrattarlo! Oggi è impossibile contrattarlo! No! Ma non è così! Ma basta! Inizio a pensare che siamo spacciati! Ehi, dai! Ehi, dai! Alla technically, non è tornare a mangiare! Ehi, dai! Non c'èalingo strumento! Inizio a pensare che sia disposti! Di giallo! Non, non, non! Fisca almeno teneva a freno gli aspiranti pusher. Un attimo, che sto dicendo? Non è che mi manca? No! Come fa la polizia a non amarmi? Messaggio anonimo, arresto facile, boom! Lavoro fatto! Lavoro fatto! Lavoro fatto!